Paolo Sousa, ex calciatore portoghese, ha indossato la maglia bianconera della Juventus per due stagioni, dal 1994 al 1996. Durante il suo periodo con la Juve, ha ottenuto importanti risultati e lasciato un segno indelebile nella storia del club. È stato determinante quando la Juventus ha vinto la Champions League nel 1996, sconfiggendo gli olandesi dell'Ajax in finale. Inoltre, ha contribuito alla vittoria del campionato italiano e della Coppa Italia con la Juve. Paolo Sousa era un centrocampista centrale dotato di ottima tecnica, personalità e un bel lancio. Nonostante alcune difficoltà fisiche legate alle ginocchia, ha lasciato un'impronta duratura nel calcio europeo sia come giocatore che come allenatore.